Sia lodato Gesù Cristo! Oggi celebriamo la terza domenica dell'Avvento Romano. La liturgia della Parola all'interno della Divina Eucaristia ci propone un brano di Matteo, ed esattamente nel capitolo 11 dal verso 2 al verso 11. Di nuovo ci viene proposta la figura di Giovanni il battezzatore, però non più come figura centrale, come nella seconda domenica. Il battezzatore dal carcere, infatti, invia alcuni suoi discepoli con il fine di verificare l'esatta identità di Gesù. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Questa è la domanda che il battezzatore affida ai suoi discepoli. Scopo di questa, chiamiamola verifica, è spostare l'attenzione dalla sua persona su quella di Gesù. La vita di Giovanni il battezzatore volge al termine sappiamo morirà decollato e il suo mandato divino si sta concludendo. Alla richiesta degli ambasciatori giovanni, Gesù risponde citando Isaia e in modo particolare Isaia 35, 5 e seguenti, 61, 1, confrontando anche con 29, 18 e seguenti. Ovvero, in buona sostanza, Gesù ricorda che i ciechi vedono di nuovo. Gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti sono risuscitati e i poveri ricevono il lieto messaggio. Qui viene rievocata la presenza di Gesù nella sinagoga di Nazareth, citata da Luca al capitolo 4, dal verso 16 al verso 30, quando gli viene affidato dall'inserviente il rotolo del profeta Isaia e proprio queste sono le parole che vengono da Gesù pronunciate. Dunque Gesù risponde ai giovanniti applicando a sé le caratteristiche proprie del Messia, del Salvatore, del Cristo. Notare però come la risposta si basa sulle attese messianiche del popolo di Israele. Il testo oggi presentato entra perfettamente nel contesto dell'Avvento, ovvero di quella attesa che tutti quanti noi consapevolmente o inconsapevolmente sperimentiamo. Quanto descritto da Isaia, guarigioni, liberazioni, risuscitazioni, sono l'effetto ultimo dell'azione del Redentore, che ha il compito di restaurare tutto il creato, liberandolo dagli effetti del peccato dell'origine e restituirlo alla primigenia perfezione e alla bellezza del primo atto creativo. Avvento, ovvero attesa della piena realizzazione di questo piano redentivo della Santissima Trinità, attuato nella storia dal Figlio. Il Verbo, ci dice il Vangelo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Celebrare dunque il Natale di nostro Signor Gesù Cristo significa essere certi di tutto questo. Sialo dato Gesù Cristo! Grazie!